I figli di Silvio Berlusconi sono colti da un profondo senso di inquietudine. Secondo fonti affidabili, provenienti dagli ambienti ospedalieri del San Raffaele di Milano, durante il suo penultimo ricovero, il Cavaliere avrebbe apportato modifiche significative al proprio testamento con l'assistenza del suo storico notaio, Arrigo Roveda, e del fidato ragioniere Giuseppe Spinelli. Questa rivelazione, emersa grazie ad Agospia, ha scatenato un vero e proprio terremoto emotivo tra gli eredi di Silvio Berlusconi. È facile immaginare l'ansia e la preoccupazione che queste voci, di possibili cambiamenti al testamento, hanno suscitato nei figli del magnate italiano. Nel caso emergessero, lasciti insoliti o inaspettati, gli eredi avranno solide basi legali per contestarli e difendere i propri interessi. La situazione si complica ulteriormente, se si considera che le decisioni testamentarie di una figura di spicco come Silvio Berlusconi potrebbero avere conseguenze rilevanti, non solo per i suoi eredi diretti, ma anche per l'intero panorama politico ed economico italiano. La speculazione e l'incertezza si sono inevitabilmente diffuse, alimentando dibattiti accesi sul futuro del patrimonio e del potere accumulati dal Cavaliere nel corso degli anni. Tuttavia, è importante tenere presente che il sistema legale offre mezzi adeguati per risolvere eventuali controversie ereditarie. Nel caso di lasciti sospetti o controversi, gli eredi di Silvio Berlusconi potranno fare affidamento su consulenti legali, esperti per difendere i propri diritti e garantire una distribuzione equa delle risorse ereditate. Nonostante l'attesa che la verità venga alla luce, l'intera vicenda rimane avvolta nel mistero, con gli occhi del pubblico e dei media puntati sulle mosse successive, degli eredi di Silvio Berlusconi e sulle potenziali implicazioni che queste modifiche testamentarie potrebbero avere per il futuro dell'impero da lui costruito. Non dimenticare di lasciare un like o un commento al video e iscriverti al canale per non perderti le prossime notizie.